Mancano pochi giorni e scatterà l'obbligo delle iscrizioni online per l'anno scolastico 2013-2014 per tutte le classi iniziali di ogni ordine e grado. Da lunedì prossimo e sino al 28 febbraio ci sarà tempo per farlo. Ma cosa dovranno fare le famiglie? Semplicemente dovranno registrarsi sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it e con un clic si potrà scegliere la scuola preferita esaminando dal sito quali sono le offerte formative dei vari istituti e quali quelle più vicine alle proprie abitazioni. Una volta scelto l'istituto scolastico, quest'ultimo a sua volta infierà un'email di conferma dell'avvenuta ricezione del modulo alle famiglie. Come tutte le innovazioni, anche questa probabilmente potrà registrare qualche difficoltà con conseguente richiesta di supporto a chi è più specializzato a smanettare con internet. Le cose purtroppo non saranno facili al sud, dove le famiglie che non sono ancora in possesso di un accesso a internet sfiorano il 30%. In provincia di Agrigento alcuni istituti scolastici stanno attrezzando le segreterie e aggiornando i propri siti internet. Allo stesso tempo il personale si sta preparando ad accogliere coloro che avranno difficoltà nella compilazione dei moduli. Le iscrizioni online, volute dal ministero, dovrebbero semplificare le iscrizioni ed evitare lunghe file alle segreterie scolastiche. Ma sarà veramente così?